Quando Nizio Miceli mi ha chiamato per farmi entrare in commissione, quando poi abbiamo fatto la commissione, poi i lavori che ho preso, i soldi che ho preso, il 95% ci ha dovuto tornare a Malta, la verità no, la verità è tutto da là, la verità è tutto da là, la verità superfusione, la verità è tutto da là, la verità superfusione, la verità è tutto di ufficialità e lo stato di bisogno di un momento particolare in cui ho accettato questo incarico per soldi, perché lavori non ce n'era e non ce n'è, pur sapendo che avrei dovuto fare queste fatture false perché così è stato, senza che io poi ho avuto nessuna prestazione. Tutto quello che c'è il meccanismo dietro è molto, non stavano parlando di appalti di 100 milioni di Euro, amore, capito? Io ho avuto bisogno in quel momento, sapevo che stavo facendo le fatturazioni illegali, però si mette nelle mie condizioni, è un momento particolare in cui io ho vissuto. Poi quando mi sono arrivati a dare la gara da tanto, è finalizzata a far prendere all'impresa, amica di Miceli, i lavori. Io che non sapevo, la società che poi ha vinto, è una società di Miceli. Grazie. 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 Grazie.